Buongiorno, sono il mio basso. Sono Calabresi, provendo da Santa San Bruno e durante gli anni ho certo che per forza trasformare ciò che pensi in musica. Ogni paese ha le sue tradizioni e i suoi modi di fare, e fa un'usica che si possa contraddistingere da gli altri, come dunque per continuare a chiamare la stagione. Il nostro modo è di farci riconoscere a tutti, il nostro modo è di farci amare da tutti, il nostro modo è di farci che tutti siamo amici, e credete, la distanza scendendo anche le tue unite, e non andare dall'altra volta. Un poco di buco meno e non lo vi vedete. Un poco di buco meno e non lo vi vedete. Un po' se ne vedete nemmeno quello è proprio da 10. Poi siamo avvicinati, ma non si è massimo. E' stato avvicinato, ma sono avvicinato, ma sono avvicinato. Un po' si è successo. Buonasera a tutti, ve lo fate sentire, un applauso! E dove vieni? Perché da se lo cuore e di questo mi senti, tra amore e doveri, non c'è un posto dove, non ti faccio i movi tra i chiave e i seri, forse siamo dai sparti ma l'uomo è grande, sai? E dove vieni? Perché da se lo cuore e di questo mi senti, non c'è un posto dove, 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 non c'è un posto dove. Le mani da ragazzi, come fa? Le mani in cielo! E vi spieghi qua su! E tu sarà a maggioranza, grazie!